È un periodo sicuramente di crisi, il settore edilizio del nostro paese ha dichiarato default, è corretto? È assolutamente corretto, l'ANCE nazionale nel suo comitato di presidenza di metà febbraio ha indetto questo Stato per evidenziare la particolare difficoltà del momento. Ci sono necessari degli interventi importanti e pesanti per dare vita e per dare slancio ad un settore che è assolutamente decisivo per l'economia interitaliana che da solo riguarda oltre il 10% del PIL. Andiamo nella provincia di Forlì-Cesena, quali sono le criticità e cosa chiedete al mondo politico? Dunque abbiamo riscontrato tante criticità, un problema di calo degli investimenti, questo ovviamente a cascata proviene dagli ambienti nazionali, quindi da decisioni come il patto di stabilità che vincolano i nostri enti locali. ci sono criticità importanti perché cala la fiducia anche dell'investitore privato dal semplice utente che fatica in momenti come questi ad avere la fiducia per acquistare un appartamento all'investitore più istituzionale o comunque l'immobiliarista che in questo momento non fa partire alcun tipo di progetto. Abbiamo avuto dei cali importanti, dei fatturati ormai continui dal 2008 ad oggi, cali nel numero dei dipendenti che sono calati negli ultimi 3-4 anni nell'ordine complessivamente del 20% e parliamo di circa 8 mila addetti del solo settore dell'edilizia in provincia, quindi parliamo di cifre assolutamente importanti. Insomma sarebbe necessaria la possibilità di un investimento maggiore anche in quelle che sono le infrastrutture tramite degli appalti pubblici? Sì assolutamente, le 3-4 proposte fondamentali che ANCE, collegio costruttori della provincia di Fuoricesena fa sono queste, cioè cercare di rilanciare gli investimenti pubblici.